Salve a tutti ragazzi e benvenuti nell'ultimo episodio di... del primo episodio di Quake Nell'ultimo episodio del primo episodio... sì, ok, va bene Allora, dovremmo prendere questa runa, da qui compare Kton, il primo boss E... in modo per ucciderlo è abbastanza astruso, questo me lo ricordavo dalla versione Sherware Praticamente bisogna far scendere questi pali E ammazzarlo con un colpo di elettricità, vi faccio vedere come Non guardatevi indietro, questo è Kton In Nightmare va colpito tre volte Non provate a scaricargli i colpi addosso perché non serve a nulla Ma ha preso al volo comunque prima, eh Ok E' andato La mappa è finita, molto veloce, lo so Ma guardate, adesso c'è la passerella qui sotto E noi praticamente abbiamo preso la prima runa Del primo episodio di Quake Che ne mancano altre tre Questa è l'uscita Sì Le altre 20 kills sono dei Shambler che si teletrasportano Ok Ok Il testo spero l'abbiate visto perché l'ho messo a schermo, ho tradotto E siamo di nuovo qua Secondo episodio Il reame della magia nera Antichi castelli e strane bestie Qui di fronte Entriamo Questa mappa ovviamente la vedrete nel prossimo episodio Lo so, è stato un mini episodio di Quake Però, appunto, per rispettare la colonicità di ogni livello Mi tocca fermare qui la registrazione Grazie per essere stati qui e ci vediamo alla prossima Chiedi ci vediamo ai